dopo ci sono già 32.000 euro scommessi i cavalli sono in partenza 4.28 Siju in Paris 4.39 Selfie Stick 5.44 Hypnotic Dancer è un po' questo il leitmotiv della corsa quindi le tre femmine su tutte noi lasciamo alla linea d'Alberto Artino partiti veloce a centropista Siju in Paris che figura in vantaggio e gradatamente cerca di portarsi allo steccato seguita all'esterno da Meda Obodessa quindi all'interno da Hypnotic Dancer ancora Mr. Diamond in seconda linea lungo la corda a buon tempone quindi Time Last e Selfie Stick cavalli ora a 400 dal palo con Siju in Paris in leggero vantaggio allo steccato su Meda Obodessa poi Hypnotic Dancer avanzano Mr. Diamond e Siju con all'esterno Time Last e Capitan Light a 200 dal palo Siju in Paris attaccato da Meda Obodessa centropista sta scattando Mr. Diamond anche buon tempone all'esterno Time Last nel tratto conclusivo è in vantaggio è in vantaggio Mr. Diamond su buon tempone Siju in Paris andiamo a rivedere le immagini con Mr. Diamond in vantaggio a centropista attaccato all'interno da buon tempone e sul palo in vantaggio si mantiene il 4 di Mr. Diamond sul 5 di buon tempone e sul palo